La rassegna stampa del mattino E vi ricordo che alle 9.30 avremo un'altra messa, questa volta locale La faremo noi di Fanotv, la andremo a riprendere e a trasmettere dal santuario del Beato Sante alle 9.30 Adesso invece andiamo a vedere il santo e poi il tempo Il santo di oggi è San Benedetto Massare, il sole sortò alle 6.43, tramonto era alle 19.39 Allora andiamo a vedere il tempo, il tempo sarà buono oggi, sereno, poco nuvoloso Fa ancora un po' freschino questa mattina ma per il resto sarà una bella giornata Per domani, domenica 5 aprile, ancora vedete su tutta la costa, sull'entroterra, le colline Queste colline che cominciano a verdeggiare, a risplendere con un verde sempre più acceso Anche grazie al grano che sta crescendo Lunedì 6 ancora sole con temperature senza variazione di rilievo E c'è quest'alta pressione che si consolida e che ci garantirà ancora bel tempo Nei prossimi giorni per vedere la pioggia bisognerà attendere ancora davvero tante Forse fino a Pasqua qui nelle Marche di pioggia non se ne vedrà Ma di questo ne parleremo e vedremo Allora adesso andiamo invece a vedere i giornali Cominciamo con il Corriere Adriatico Questa mattina il titolo è più che altro riguarda la parte economica di questa emergenza Ovvero sono gli imprenditori che sono in allarme così come gli artigiani L'aria dicono è pesante, ripartiamo o qui si muore Evitare rischi a chi lavora ma un altro mese così, cioè chiusi, è impensabile Intanto ieri sono stati registrati nelle ultime 24 ore 17 morti Contagi e ricoveri, le Marche sono vicine alla Lombardia Come classifica e come numeri test sul sangue Che partono anche a Marche Nord E mancano però i reagenti per i tamponi A centropagina pazienti isolati all'ex colonna Questa è la notizia del giorno per quanto riguarda Fano È un accordo che è stato messo in piedi in pochissimo tempo E parte quindi da Fano questo progetto pilota Per i malati di Covid O anche coloro che sono comunque costretti soprattutto in quarantena Perché sarà questa struttura che i fanesi conoscono bene Sarà soprattutto in particolare Non sarà una struttura ospedaliera Sarà soprattutto per andare incontro a quelle persone Che per esempio devono stare in quarantena Ma che fanno fatica dentro casa Non riescono poi a isolare i familiari Quindi creano situazioni di disagio Allora si prendono e si portano in questa struttura Che come vedremo tra poco è ancora in buone condizioni A Pesaro pronto soccorso Meno accessi Ma stessi ricoveri Ad Apecchio Task Force Realizza valvole e respiratori su maschere da mare E poi chi sta male a casa A Urbino Ora lo screening ideato da radiologia E poi la cronaca Non ho truffato La badante fa spese pazze Prende una carta di credito Il Bancomat che sono stati usati per spendere Ha speso 1500 euro È successo a Carpegna Dove i carabinieri dopo le segnalazioni di un 76enne Invalido al 100% Hanno denunciato una badante La donna a marzo si era impossessata Di 1500 euro in contante E non solo Prosciugando la carta di credito Il Bancomat dell'anziano Il titolo Anzi la pagina Del resto del carriere di Pesaro Con il titolo d'apertura Che riguarda i buoni spesa Alle prime 1500 famiglie Già da oggi la consegna dei voucher E in cassa restano 200.000 euro Al comune di Pesaro Da redistribuire ai nuovi poveri Per quanto riguarda lo sport I pesaresi saranno contenti Perché la VL resta in Serie A Sapete Ha disputato un campionato pessimo Purtroppo Credo non abbia fatto nessun punto O forse uno Non lo so Comunque erano ultimi Sono state azzerate tutte le retrocessioni Quindi manca solo l'ufficialità Ma questa è la notizia buona Per quanto riguarda lo sport Palacanestro pesarese La tempra del sindaco invece È la storia del calvario Del primo cittadino di Petriano Che ce l'ha fatta E ha dunque raggiunto il lieto fine Farmacie al tempo della pandemia Profilattici a picco Su invece vanno i tranquillanti Vedremo che anche insomma Vedremo nel corso della segna stampa Che questa pandemia Costretto anche all'astinenza Alla castità Pier Vincenzo invece è stato struncato dal virus Si salva invece il fratello Marcello Il destino di questi due fratelli Che di cognome fanno Marcelli E poi a Monbaroccio Troppo tempo per verificare un tampone Quattro anziani deceduti Cinque positivi Scatta la protesta sulla casa di riposo A Fano invece sopra luogo al Vittorio Colonna Cento camere disponibili all'ex convitto Possono ospitare pazienti non gravi Oppure malati rimasti privi dell'abitazione Eccola la notizia Che trova spazio invece Sul Corriere Adriatico In apertura a Fano Infermiera positiva A spasso con la famiglia Sorpresa dalla polizia locale Si è difesa dicendo Che con il marito e con i due figli Stava depositando rifiuti Per lei è scattata la denuncia Ma ha violato la quarantena Tutto il nucleo familiare Il suo lavoro Cioè fare l'infermiera È un aggravante E dunque per lei le conseguenze Saranno probabilmente più gravi Scrive il collega Osvaldo Scatassi Anche perché appunto La donna è stata denunciata Mentre il marito Una sanzione amministrativa Tutto questo è successo Intorno alle 10 e 15 di ieri Racconta il giornale E dalla prima ricostruzione Pare che nessuno Tra i quattro componenti Della famiglia Avesse la mascherina E quindi è scattata La denuncia Dalla polizia locale Adesso questa giovane infermiera Rischia dai 3 Ai 18 mesi di arresto Ancora dal giornale I malati in quarantena L'ex convitto Colonna Parte da Fano Il progetto pilota La struttura gestita Dalla protezione civile Questa è la fotografia Che fa vedere l'interno Il sopralluogo Che c'è stato ieri mattino Appunto dentro Questo ex convitto La struttura Che si trova In una posizione strategica Fano raggiungibile Dalle principali vie di comunicazione Dalla stazione Dall'ospedale L'ospedale è praticamente Lì a due passi Cento le camere Dicevamo Tutte dotate anche di bagno 6.000 metri È l'estensione Di questo edificio Tre i piani calpestabili Più uno interrato Allora A chi servirà Lo ricordiamo Servirà Nel caso in cui Tutto andrà a buon fine Per ospitare Le tante persone Attualmente in quarantena Nella città di Fano Che non possono rimanere in casa Per non contagiare I propri familiari L'edificio sarà attrezzato Come soluzione Non ospedaliera Ovvero come luogo Dove ospitare Situazioni di contagio Leggere O di isolamento Non gestibile Al proprio domicilio O comunque Per dare una soluzione Abitativa A persone che Improvvisamente Si sono trovate Senza casa Il Vittorio Colonna Attualmente Come dicevamo È composto da 100 camere E come sanno I fanesi Scrive Silvia Sinibaldi Sul Corriere di questa mattina Come sanno Banifanesi L'esc convinto nazionale Ospitava ragazze Orfano Orfane Dei maestri Elementari E questa è invece La pagina di Fano Sempre della 2 Del Corriere Adriatico Dove si parla Dell'emergenza Alimentare Delle persone Che stanno facendo richieste Per avere il sussidio Per avere Nei famosi 150 euro O comunque I 50 euro Per ogni persona In più del nucleo familiare Nel piatto Il sindaco di Fano Massimo Serie Aggiunge Altri 40 mila euro Sapete Il comune di Fano Ha ottenuto Dal governo 323 mila euro Il comune di Fano Ne aggiungerà Altri 40 mila Per appunto Affrontare meglio Questa emergenza Emergenza sanitaria Sono tante Le persone Che hanno Che hanno scritto Che hanno fatto Questa istanza Che hanno compiato Il modulo Nel pomeriggio di ieri 1300 accessi Alla piattaforma Oltre il doppio Dei tentativi E 150 domande Inoltrate O nelle ultime ore Poi sono diventate Questi accessi 2430 Mentre le istanze 390 Quindi ci sono 390 richieste Di voucher Risolto comunque In breve tempo Anche il problema Dell'intasamento Delle linee telefoniche Che erano state dedicate A questa richiesta Ovvero L'887 766 Questo è il numero C'è anche L'indirizzo email Sono tutte cose Che trovate Chiaramente Sul sito internet Non è un problema Insomma Questo è abbastanza Facile Come informazione Da reperire Lo sport Scende in campo Sempre dalla pagina Del Corriere Adriatico Con donazioni e iniziative Dalla Colle Marathon Alla Bocciofila Ma anche Il Centro Sportivo Italiano E la Virtus Volley La pagina di Favro del Carlino Buoni pasto Una pioggia di richieste Lunedì Sarà stilato Il primo elenco Degli aventi diritto Con i ticket Si possono acquistare Generi alimentari Di prima necessità Ma niente alcolici Per esempio Niente cose che non servono Insomma Solo beni di prima necessità Non si potranno quindi Usare i ticket Per comprare liquori Birra Il vino Cosmetici Profumi Creme di bellezza Neanche Le crocchette Per il cane O per il gatto Insomma Tutte queste cose Con i voucher Non si possono acquistare Poi c'è un primo elenco Di 15 esercizi commerciali Convenzionati Che sarà disponibile Dove andare appunto A fare la spesa E dove verranno accettati Questi voucher Questi biglietti Che serviranno Per fare la spesa Con i beni di prima necessità La CISL dice Però il sindacato CISL Dice Siamo stati poco coinvolti Il sindacato esprime Le sue perplessità Sui criteri scelti Per decidere L'assegnazione E poi A frontino Sempre dal Carlino L'ultima diga Qui nessuno è contagiato Il sindaco Spagna Dice Abbiamo portato A tutti gli abitanti Una mascherina E gli consegniamo La spesa Ai giovani Dico di non andare A trovare i nonni Devo dire Aggiunge il sindaco Che personalmente Vivo questa pandemia Con un'attenzione particolare Visto che mia moglie Lavora al CUP Di Urbino Al centro unico Di prodottazione Insomma Significa che per lei Per lei Incrociare tanta gente Magari anche parenti Di persone contagiate O comunque positivi E sintomatici Ogni giorno Rischia E quindi Prendiamo delle accortezze Ma è impossibile Prevedere O schivare Al cento per cento Il pericolo Per ora Dice lui Il sindaco Di frontino È andata bene E cerchiamo Di rimanere Comunque Un comune No covid Anche Cantiano Come dicevamo ieri Con i suoi 2200 abitanti Rimasto fino a pochi giorni fa Un comune No covid Poi in realtà Ieri Chi segue I bollettini Che anche noi Condividiamo su telegram E quindi Avrà notato Che una persona Di 88 anni È deceduta Per coronavirus Il sindaco Piccini Dice Cerchiamo di applicare La lettera Tutte le avvertenze Consegnando la spesa Grazie Anche ai volontari E poi Sotto Santo Stefano Chiuso Cerca si medici Il responsabile Dice gli ospedali Della Romagna Ci hanno soffiato Due professionisti Braccio di ferro Tra regioni e privati Per il centro sanitario Di Villa Fastigi Arrivano invece Anestesisti Infermieri A Marche Nord Una boccata di ossigeno Per gli ospedali Tre italiani Poi altri sette Dall'Ucraina Oltre a loro Infettivologhi E internisti Vogliamo aiutare Dicono loro I colleghi E il primario Tempesta Dice Grazie a loro Potremo fare Almeno un giorno Di riposo Alla settimana Come non accade Ormai da 40 giorni Dalle mascherine Alle offerte Attenzione Qui ci rivolgiamo Ancora agli anziani Soprattutto Che ci stanno seguendo In questo momento In televisione Attenzione Perché Come sempre Siete nel mirino Di malintenzionati In questo caso Visto che siamo in emergenza Possiamo parlare Tranquillamente E definirli Sciacalli Sono gli sciacalli Del coronavirus Coloro che Nonostante tutto Continuano A organizzare Truffe E raggiri Ai danni Delle persone Più debole Ai danni Degli anziani E allora Che cosa Scrive Luigi Benelli Nel giornale Questa mattina Che per esempio Ci sono persone Che stanno Chiedendo soldi Pare Offerte A nome Di un sindacato Il sindacato Per esempio Della CGL Piuttosto che Degli anziani Depensionati Insomma Queste persone Suonano il campanello Chiedono i soldi Facendo appello Alla sensibilità Degli anziani Per chi sta soffrendo Per chi sta lavorando Per salvare vite umane Per esempio Nei giorni scorsi Invece da Fossombrone Era accaduto Che E anche un po' Nei dintorni Qualcuno suonava Alle case Degli anziani E dicevano Di dover fare I tamponi Del coronavirus Ecco Anche in questo caso Chiaramente Era una truffa La Croce Rossa Non fa questo tipo Di attività E anzi Raccomanda Di avvertire Immediatamente I carabinieri Qualora ci fossero Questi soggetti Alla porta Che si presentano Con queste scuse Così Strampalate A Monbaroccio Che poi sembrano vere Però A Monbaroccio Sono in vendita Le uova di Pasqua Invece della solidarietà Aiuteranno associazioni Come la locale Ant Oppure La fanese Africa Chiama Ruba i soldi Ad un pensionato Siamo a Carpegna C'è questo furto Ai danni di un anziano La badante Rubava spesa E anche i soldi Ad intervenire Sono stati i carabinieri Della stazione Appunto Di Carpegna A seguito Di questa segnalazione Del 76enne Con invalidità Del 100% E con accurate indagini Hanno notato Che mancavano Dei soldi E quindi Hanno ripreso Questa donna Dell'Est E adesso Vediamo Della maturità Di questi ragazzi Che sono a casa In isolamento A casa Senza poter uscire Questi giovani Studenti Che probabilmente Cominceranno A stancarsi Anche loro Insomma È vero che sono tecnologici Quindi sono connessi Continuamente In giro per il mondo Con tutti Ma comunque E poi si parla Chiaramente Della maturità Sono studenti Che magari Quest'anno Avevano Gli esami Di terza media Oppure Per il diploma Di scuola media superiore Quest'anno Come sarà Questo esame Ancora Non è chiaro Anche se Probabilmente Potrebbe essere Una maturità diversa Chiaramente Light Un po' più leggera Insomma Qui da noi È un po' come I tempi del terremoto Qui da noi Nelle Marche Due possibilità Se non si tornasse In classe Per il 18 maggio L'esame potrebbe essere Online Oppure Orale Di un'ora Presidi e docenti Allargano le braccia Dice Siamo in emergenza E scegliamo Di conseguenza Il male minore Ma le reazioni Quali sono Per esempio Riccardo Rossini Che è il preside Il liceo scientifico Di Pesolo Dice Promossi per decreto Piuttosto brutto E strano E non sono D'accordo Invece Emidio Mandozzi Del saccone Di Ascoli Dice C'è solo un esperimento Faremo domande tarate Sull'emergenza in corso Consulente Mentre Patrizia Ruffini Consulente esperta Di contabilità pubblica Per me Studente nell'88 Più patos Che difficoltà Questi ragazzi Comunque Si rifaranno Dicono Poi Buoni spese Dalla Valle del Cesano Per 33 mila euro Stop con l'esaurimento Fondi Il Comune di San Costanzo Priorità alle famiglie Con ragazzi minori Oppure con disabili Poi sotto Il coach Mazzanti L'allenatore Sostenete la protezione civile L'allenatore della nazionale Di pallavolo Femminile Che dice Conosco bene La generosità Dei marottesi Un invito dunque A sostenere La protezione civile Buoni spesa Sono stati distribuiti Dal Comune di Pesaro Ecco i primi 300 mila euro Sono stati distribuiti A 1500 famiglie pesaresi Il sindaco Ricci Dice Continueremo Ad aiutare Anche altre persone Ne restano in cassa Ancora 200 mila Di questi soldi Che comunque Saranno consegnati Saranno consegnati A breve Sotto invece La denuncia Del direttore regionale Della CIA Gianfranco Santi Che dice Gli acquirenti Non pagano i vini Di settembre Citano Leggi Inesistenti E dunque Danni per chi Vende ortaggi Taglio legna Vietato Assurdo Dice Sono crollati I prezzi E in una parola In una frase L'agricoltura È in ginocchio E a dirlo appunto È Gianfranco Santi Direttore regionale Della CIA La Confederazione Italiana Degli agricoltori Che traccia Questo drammatico bilancio Di questi primi 40 giorni Di emergenza Dove dice Gli agriturismi Hanno zero incassi 12 mila euro Per le necessità Della cittadini Altri 6 mila Serviranno Invece Per un'ambulanza Virus Comune Sindacati Dal prefetto Vedete la fotografia Di Antonio Sobastianelli Che è il sindaco Di Terre Roveresche Cigelle Cisle Will Chiedono L'intervento Perché ritengono Che il sindaco Non stia applicando Tutte le misure Anticontagi E dunque Le organizzazioni Sindacali Vanno E scrivono Al prefetto Perché ritengono Che Sebastianelli Non stia applicando Appunto Negli uffici comunali E con i dipendenti Tutte le misure Necessarie A limitare La diffusione Del coronavirus Vittorio Colonna Invece C'è la soluzione Concesso Alla protezione civile Non è ancora ufficiale Ma sarà dato In accomodato Gratuito Tutto questo Dopo il sopralluogo Che giovedì mattina È stato effettuato All'interno Della struttura Dal sindaco Massimo Serri Dal vice sindaco Cristian Faresi Dai responsabili Dell'area vasta Numero 1 Dalla protezione Civile locale E dal rappresentante Di INVI MIT SGR Che è la società Del ministero Dell'economia E delle finanze Alla quale È affidata La gestione Dello stabile Ex Enam Ora di proprietà Dell'Inps E quindi Così come Fanno potrebbe diventare A prepista Perché chiaramente Il ministero De finanze E questa società Che gestisce Questi immobili Ce ne ha altri Sparsi per l'Italia E quindi potrebbe Anche essere Che insomma Fanno faccia Un componente Ok E di 200 euro Per quelle Con due componenti Di 300 euro Per le famiglie Fino a 4 persone E di 400 Per quelle Da 5 componenti In su Questo A Colli al Metauro Sono consentiti Gli acquisti Di prodotti alimentari Di genere Di prima necessità Negli esercizi Aderenti Il cui elenco È disponibile Nel sito web Del comune Di Colli al Metauro Da Urbino Corriere Adriatico Il titolo Rispettati i criteri Regionali e ministeriali Ma l'ondata anomala E carenza Di reagenti Per i tamponi L'area vasta 1 E risponde Alla CGL E la CISL Ricoverati in attese Di tampone È stato impossibile Attivare I reparti divisi Gli accertamenti Oggi Sono eseguiti All'interno Dell'ospedale Poi anche qui La cronaca Con questo Raggiro Da parte Di una badante Ai danni Di un 76enne Fa spese Con la carta Dell'anziano E poi Andiamo adesso A vedere Le notizie Che riguardano La regione E più in particolare L'ospedale 100 Così è stato definito Quello che sorgerà Speriamo A Civitanova L'ospedale 100 Forse trova pagina Questo è il titolo Del Corriere Adriatico La regione Sblocca la delibera Un giorno Per avere il progetto Esecutivo E la firma Della convenzione Il presidente Della fondazione CISOM Dice Sceglieremo Aziende Delle Marche E intesa Dona Un milione E mezzo Di euro Quindi Se giovedì Sembrava vicina La rinuncia A costruire Questa struttura Ieri nel giro Di mezza giornata Si è praticamente Ribaltato tutto E l'aggrovigliato ITER Per realizzare la struttura Full Covid 19 Per terapie intensive Subintensive La fiera di Civitanova Si è rimesso in discesa Con due passaggi decisivi Ora Qui in tanti Ci hanno scritto Lo dico perché Ci scrivono Ci segnalano Ma perché Non Al posto di andare A costruire una struttura nuova Non aprite Non ripotenziate L'ospedale di Pergola Piuttosto che Quell'altro ospedale Che adesso è così Quell'altro ospedale Ora Nelle intenzioni Nelle intenzioni Del governatore Nelle intenzioni Della regione C'è quello Di tenere Questa struttura Comunque pronta Perché ancora Pare che nelle Marche La situazione Continuerà così Anche se Sembra un po' stabile Sembra diminuire Sembrano diminuire I contagi Eccetera Però È importante Questa struttura Perché si liberano Si decongestionano Tutti gli ospedali Che in questo momento Sono al limite Marche Nord È al limite Tutti sono al limite Si lavora al limite E realizzare Una volta che sarà aperta Questa struttura Da 90 posti letto Si fanno andare Tutti lì Si liberano I vari ospedali Che adesso sono al limite Si abbassa La sticella E quindi si torna Si cerca di tornare Non dico la normalità Ma una cosa simile Quindi anche Tutti gli eventi Del passato Quelli programmati Quelli che si ammalano E che hanno bisogno Della terapia intensiva Ma non per il coronavirus Per altri motivi Ecco possono andare Negli ospedali Vicino a casa E non andare Sparsi in giro Per il mondo Quindi questa è In linea di massima Perdono La semplificazione Ma cerco di farvi capire Un po' La situazione Riattivare Un po' qui Un po' là I vari ospedali E' comunque forse Non è proprio così Semplice O a livello Come dire Organizzativo Non sarebbe il massimo Ecco questo per farvi capire La logica Perlomeno La caccia all'infezione Con i test sul sangue Invece questa è un'altra Novità Interessante Mancano però i reagenti Ospedali riuniti Quindi Torrete E Marche Nord Pesero Avviano lo screening Sierologico Sui sanitari Il professor Menzo Dice che Di virologia Dice fatto Su scala di massa Sarebbe stato Uno spreco Potremmo fare Più tamponi Ma i kit Scarseggiano Ceriscioli Dice individuare E isolare Il maggior numero Di contagi Ora Dal punto di vista E qui siamo sempre Sul Corriere Adriatico Dal punto di vista Degli imprenditori Anche qui La situazione Comincia a diventare Molto Molto Pesante Allora Quando si tornerà In azienda Questa è la domanda Principia La domanda più importante Di queste due pagine Che il giornale pubblica Questa mattina Il capo del governo Della protezione civile Borrelli Ieri ha previsto Lo start Ritorno La partenza Non prima di maggio Poi però Ha rivisto la previsione Perché prima di maggio Significa che ancora Abbiamo un mese Ma un mese fermi Più un mese Già fermo Quindi un altro mese ancora Quindi due mesi In tutto Sarebbe per molti Imprenditori Davvero La fine La catastrofe E allora Ieri è stata rivista Un po' la previsione Si deciderà Ha detto Borrelli Addrizzando E aggiustando il tiro In relazione All'evoluzione del virus Gli industriali Paniccia per esempio Eubaldi Che dicono Stiamo perdendo Quote di mercato Chi può Deve ripartire Il prima possibile Significa Che se io Ho dei clienti Che negli anni Ho acquisito Che sono miei clienti Che fatturo Ogni anno A un certo punto Se io non riesco più A dargli il prodotto Questi vanno Da altre parti E quindi si spostano E quindi addio Quote di mercato Gli artigiani Altro settore Che avrà Problemi Tanti Tantissimi problemi Più protezioni Per i dipendenti E i clienti E soprattutto Avremo a che fare Con persone e famiglie Stremate economicamente Insomma Il dilemma Prima dice Si parte Il primo di maggio Poi però Ritratta Gli industriali E gli artigiani Sono divisi Il costruttore Eubaldi Dice Sicurezza Certo Ma un altro mese Così è impensabile Il calzaturiero Ferracuti Dice invece Siamo tra due spade Di Lamocle Evitare i rischi A chi lavora E un business Tutto Da ritarare Tutto da ripensare Tutto da rifare Così rischiamo Di farci male Due volte Dice Bruno Riccarelli Pesarese Un artigiano Che partito Come falegname Oggi realizza Redi navali E civili Su misura Con gli scanner 3D Lui è componente Della giunta Con fartigianato Ancona Pesaro E quando gli si chiede Ripartiamo a maggio Ripartire a maggio Lui dice Risponde così Io dico due cose La prima È che dobbiamo Mantenere la lucidità Tornerei al lavoro Domani mattina Così come tanti altri Imprenditori Ma mi dico Devo avere sangue freddo Se noi ripartiamo Nel momento sbagliato Forse non andiamo A trovare Quel che serve Alle nostre aziende E così ci ritroveremo Appunto a capo Con un doppio rischio Se arriva un'altra Ondata di virus Se arriva un'altra Ondata di virus Come questa La sanità Non so se regge Non so se reggere E l'imprenditoria Non se lo può permettere Allora meglio Una settimana Di sacrifici in più Se serve sì Forse ci gioverebbe Infinitamente Lo dico io Che ho trasferiti Ad Ancona Sono bloccati Negli alloggi Di servizio Non sono potuti Tornare a casa Sono un costo importante Lo sostengo volentieri Mi metto Però nei loro panni Questo dice Bruno Riccardelli Uomo saggio Imprenditore saggio E poi c'è invece L'altra pagina La seconda Che riguarda sempre Gli imprenditori L'imprenditoria L'industriale Chi è questo industriale? Paniccia Sandro Paniccia Titolare di Ica Civitanova Colosso multinazionale Delle vernici green Sei società In tutto il mondo Si mette a piangere Pensando agli amici di Bergamo A cui dice Ho inviato mascherine E gel Perché qua Non c'è rimasto Più niente La sua società La sua azienda È rimasta aperta Al 57% Della produzione In Italia Mentre in Germania Polonia E Cina Le sue aziende Vanno avanti A pieno regime E in Cina Dopo lo stop Nel primo trimestre Abbiamo fatto Addirittura di più Si è fermata l'India Ma ci sta Dice lui Il momento È questo Si dice Riprire subito Nella mia azienda tedesca Però lavorano tutti Mentre l'imprenditore Balneare E qui parliamo L'Italia Essendo penisola Ha tante di quelle spiagge Ha tanti di quegli Stabilimenti balneari E il turismo E c'è tanto fatturato E chiamare la gente Dopo sarebbe ancora più complicato Quindi ci metterelle a firma Per riaprire Dopo il primo di maggio Ma le faccio una domanda A cui ancora non ho risposto Fare il bagno È pericoloso? La domanda La fa assenti La fa assenti Al giornalista E il giornalista Giustamente dice Si è dato una risposta Beh sì Di tanta gente Che parla Qualcuno ci spiegherà Se in acqua è pericoloso Altro che droplet O goccioline Come reagisce Il virus In acqua Se dice alla gente Che non puoi fare il bagno Tagli le gambe Praticamente A tutti Ok E poi c'è l'artigiana Per correttezza Diciamo che c'è anche L'intervista A Mauda Gaudenzi Che è un'imprenditrice Presidente di Benessere e Sanità C'è neanche una Che dice Sulla questione Di riaprire a maggio Noi del settore Parrucchieria Estetista Siamo rassegnati Perché rientriamo Tra le ecoteorie Che riaprono Tra le ultime Per la troppa vicinanza Al cliente E quindi Per il momento Addio A tagli Tinte E capelli Ma insomma Dal Presidente Della Repubblica Mattarella Che con quel fuori onda A noi Anche a tutti Siamo senza taglio di capelli Ma andiamo avanti Lo stesso Questo è il minimo Dei problemi Figuriamoci Ci sono Ci sono ben altri Ben altri problemi Spiagge invece Anche qui Siamo su Pesaro La giunta Gioca d'anticipo E approva il piano Dei ripascimenti Il litorale Sarà rinforzato Con 23 mila Metri cubi Di sabbia Ma resta l'incognita Sui tempi Di intervento Andiamo velocemente Per chiudere Questa rassegna stampa La casa di riposo È a rischio Troppi ritardi Sul tampone Siamo al Beato Siamo al Beato Sante Dove la protesta Del sindaco Petrucci Dopo che per un paziente Si è dovuto attendere Quattro giorni Per conoscere I risultati Del test Il sindaco Lo vedete In questa immagine Qua Guardate che scene Davvero incredibili Chissà come le rileggeremo Se avremo il coraggio Di rivederle Tra qualche anno Quando sarà Un brutto ricordo Il calvario Delle operatrici sociali Sempre alla RSA Di Monbaroccio Che sono in quarantena Dopo 11 giorni Dall'esame L'ASUR è sparita Però attenzione Io a questo punto Noi abbiamo Fatto poche interviste Ci siamo limitati Non siamo andati Negli ospedali Non abbiamo Fatto ripresa all'interno Non abbiamo insistito Abbiamo lasciato tutto Agli operatori Dei Tg nazionali Che Su queste cose Devono 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 farci I telegiornali A loro modo Non siamo andati Nemmeno all'interno Dell'ASUR Noi Vi parliamo da Fano Lo dico per chi non sa Dove ci troviamo Noi siamo a Fano Siamo in via Borsellino Dove si raccolgono i tamponi Dove si chiamano le persone 50 volte al giorno Per sapere come stanno Cioè Sono qui attaccati a noi Siamo vicini di casa Siamo nello stesso complesso Li vediamo Io li vedo Perché io sto qua Dalla mattina alla sera Arrivo Loro sono là Esco Loro sono là Fanno un lavoro incredibile Incredibile Ho provato a chiedere Facciamo due immagini Facciamo racconti No Lasciamo stare Dobbiamo lavorare A testa bassa E allora li ringraziamo È facile dire Non si è sentito nessuno Non si è visto nessuno Difficile è comprendere Perché non si conosce la realtà Comprendere Quanto lavoro Con quanta dedizione Con quanto sacrificio Ogni giorno Sono là A cinque metri da qui La porta accanto a noi Tante persone Lavorano Con un panino Da una parte E la cornetta Dall'altra Durante l'ora Neanche la pausa pranzo E lo dico perché Ci sono entrato Qualche settimana fa Ho voluto vedere Di persona Quindi mi sento Davvero Di spezzare Questa lancia A favore di tutte Queste persone Che in questa emergenza Incredibile E straordinaria Stanno facendo Stanno donando E stanno dando Tutto se stessi Quindi complimenti Andiamo avanti L'ultima pagina Così avrete qualcosa Su cui discutere Mentre prendete il caffè Azzerati i profilattici Picco degli ansiolitici Questa è la notizia Sul Carlino di Pesaro Di questa mattina Insesso Al tempo del coronavirus Rasenta l'astinenza Il primario Degli infettivi Che dice I baci E tutto il resto Sono troppo Pericolosi Allora Vabbè C'è tutto Tutto l'articolo Che chiaramente Non stiamo Adesso A entrare Nei dettagli Intanto Il parere dei farmacisti Abbiamo messo via Scatole di preservativi Per fare posto Alle mascherine I guanti Agli antidepressivi E ai gel Igenizzanti E Dicevamo Del Del Dell'infettivologo Che dice Il professor Francesco Barchiesi Dice Il virus Non è stato isolato Nello sperma O negli umori vaginali C'è di sicuro Nella saliva Quindi Il bacio È un mezzo Di trasmissione Diretta Del virus Le coppie conviventi Asintomatiche In isolamento Non esiste Nessuna Controindicazione Il problema Sorge Se uno Dei due Lavora fuori Ad esempio È un operatore Sanitario La situazione È più rischiosa E lo stesso Vale per le coppie Che non vivono Sotto lo stesso Tetto Certo Un rapporto Sessuale A prescindere Dal bacio Implica una vicinanza E dunque Il rischio C'è Ma di certo Un bacio Prolungato È fonte Di certo Di contagio È fonte Certa Di contagio Un bacio Prolungato È fonte Certa Di contagio Ma va bene E allora Questa è la rassegna Stampa del mattino Di questo sabato Che Rassegna Che termina qui Io vi ringrazio Come sempre Per averci seguito Vi ricordo Che questa sera Non c'è il telegiornale Alle 20 e 30 Perché oggi è sabato Però Come sempre Siamo sempre pronti Per gli aggiornamenti In qualunque momento Per tutte le informazioni In tempo reale Abbiamo comunque Il nostro sito internet Occhilanotizia.it Abbiamo il canale Telegram Che è sempre Aggiornato Anche lì abbiamo fatto Una selezione Non stiamo a tempestarvi Di comunicati Di messaggi Su Telegram Lo dico perché siamo Più di 2.300 Si sono iscritti Per darvi ansia E mettervi ancora ansia Non stiamo lì A farvi la conta Mettiamo soltanto Le notizie più importanti E gli aggiornamenti Del Gores Quelli sì Aggiornamenti delle 9 Di mezzogiorno E della sera Sono tre aggiornamenti Nei quali vi facciamo vedere La mappa E i cartelli Con i contagi I numeri E quant'altro Ecco questo per divi Anche la rassegna stampa Oggi è andata in onda No panic No ansia Quindi abbiamo eliminato Tutte quelle pagine Dove ci sono titoli Ad effetto E situazioni varie Abbiamo bisogno Di stare tranquilli E questo è quello Che abbiamo cercato Di fare questa mattina Grazie per essere stati con noi Una serena E felice Felice fine settimana O sereno Felice forse è una parola grossa Sereno fine settimana A tutti voi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti